Musica Amici e amiche di Radio Sherwood, siamo qui con Vinnie Maracas Buonasera Richard Floyd Buonasera Vinnie Maracas è un recente acquisto dell'etichetta sotterranei, ha suonato un'ora fa sul nostro second stage, uscito l'anno scorso con un EP dal titolo Giovane Cagliostro e artista che si definisce esponente di un'urgenza espressiva che possiamo chiamare Italian Touch Vinnie, parlaci un po' di questo Italian Touch Partiamo dal presupposto che io cerco di non definirmi e di non esporre, quindi di non essere esponente ma casomai nascondente quindi sono un nascondente dell'Italian Touch che è, se vuoi, questa parola inventata che serve a giustificare l'esistenza cioè come un nome, ognuno di noi ha un nome che giustifica il fatto che esistiamo Italian Touch in qualche modo è il codice che ci permette di esistere perché questo fatto della definizione è a quanto pare un fatto importante per i mercati in generale e noi gli diamo quello che vogliono ma facendo finta Avete appena terminato un'esibizione molto intensa ma quello che ci ha impressionato particolarmente sono le vostre emis molto interessanti Richard ce ne vuoi parlare tu di entrambe le emis? Di la verità, di tutta la verità Allora, la verità assoluta è che comunque Vinny ci tiene molto all'abito sul palco, al fatto di vivere il palco in un certo modo a vivere il palco in un certo modo e di conseguenza Sono il fashion stylist di Richard Floyd È diventato il mio fashion stylist Io stesso ormai Non l'abbandona più Gli è piaciuto talmente tanto No, si può quasi dire che sono diventato Vinny Maracas Esatto, Richard Maracas Ecco, la prima misa sembrava più o meno da sciamano se non mi sbaglio La seconda invece non l'ho capita bene mi sembrava una donna a rogo per via della cenere Ma non ci avevi ancora pensato Lo era, lo era Ok Ho avuto anni fa il piacere di incontrare questa donna neozelandese che però vive in Puerto Rico che è una delle più grandi maestre di maschere viventi nel mondo cioè ha una sapienza infinita sulle maschere e le costruisce mi trovavo con lei a chiacchierare nello Jutland occidentale e lei mi disse credo che tu sia una bruca e quindi da quel giorno io cerco di seguire la strada che questa bruca ha segnato per me tutto chiaro in Rose Selavie ti identifichi con diverse personalità cross nel tempo, nello spazio e anche tra realtà e fantasia quello che cerco di capire è le vivi come un'unica personalità cioè sono tutte componenti della tua personalità o è proprio una questione di personalità multiple tipo Split il film? Ma in parte appunto è una disidentificazione cioè appunto il confine tra realtà e fantasia forse non esiste di fatto e magari ci sono persone che conoscono di più personaggi di fantasia rispetto ai personaggi reali che magari vengono citati nella canzone ma il discorso è proprio la disidentificazione cioè io in realtà credo che questo discorso dell'identità che poi è il segno uguale dell'algebra sia un po' una truffa perché appunto non si è mai identici neanche a se stessi dieci minuti prima e dieci minuti dopo quindi il ricorso al personaggio di fantasia e alla, come dire all'auto all'autonominazione in qualche modo perché appunto anche il nome ha a che fare con l'identità però rinunciare ai nomi e affidarsi a nomi di altri che esistono che non esistono servono in qualche modo a liberarsi credo io dall'identità che viene molto rivendicata ma forse potremmo farne a meno in generale dalla tua biografia segreta leggo che ti definisci alchimista non mi definisco vieni definito nella biografia segreta dal tuo biografo segreto Gianni Sonaglio che salutiamo così non è più segreto lo salutiamo però è un caro amico ciao Gianni il tuo biografo segreto Gianni Sonaglio residente in via questo non lo possiamo dire no eccetera eccetera ti definisce profeta sciamano alchimista o impostore voglio metterti alla prova se sei un profeta quale profezia ci annunci non si esce vivi dagli anni venti ottimo lancio richard ma come l'hai conosciuto ci conosciamo da sempre ci siamo incontrati in un ranch ci siamo incontrati in un ranch a Mestre giusto? microfono ci siamo incontrati in un ranch a Mestre si può quasi dire che si è scattato subito una scintilla un'intesa dopo tutta una serie di moiti e di bevande tutto questo per dire che io gli ho chiesto dei soldi in prestito e lui me li ha dati ecco però è una questione economica di debiti la nostra collaborazione è il motivo esatto però di questo bisogna parlare con i nostri avvocati che poi incasinano sempre tutto gli avvocati quindi meglio lasciarli allora non parliamone con gli avvocati non parliamo di idee non ascolteranno questo podcast assolutamente no invece l'incontro con i dischi sotterranei come è avvenuto mi piace pensare che sia stato tramite un medium beh in parte sì diciamo che quel medium può essere indicato in Marco Sorgato tra i fondatori di dischi sotterranei che è diciamo il l'angelo custode il nostro angelo custode o in questo momento è in Indonesia disperso nella giungla Marco se stai bene diccelo che sostanzialmente a un certo punto è stato infatuato dall'incantesimo che sapientemente gli avevamo ordito oh mio dio no ma era un incantesimo benefico ovviamente perché si tratta sempre di magia bianca di luce contro le tenebre no infatti viviamo nelle tenebre per far risplendere la luce questa è la nostra missione e Marco ha fatto da medium e ci ha calati in questo sotterraneo ci ha rinchiusi lì per circa 40 giorni e 40 notti e e lì le nostre anime si sono in qualche modo riunite e e niente e come ci siamo risvegliati da questa trance eravamo eravamo dentro eravamo dentro ai dischi sotterranei che salutiamo e a cui vogliamo tutto il bene dell'animo grazie Marco per averci regalato vini maracas grazie